molto bello, bravi, molto bello, molto molto bello, anche per i bambini è divertentissimo bellissimo, davvero un complimento, un'emozione unica alla gente ha risposto molto bene, come vedete voi c'è un mondo di gente, c'è tanta gente questa non è Ibiza ma è Vicenza vestita in tanti modi, ora da astronauta, ora da bambino sognatore ora da Venezia con le sue dame e i suoi doji noi siamo l'associazione Carnevale che Passione di Rossano Veneto in provincia di Vicenza e quest'anno rappresentiamo un carro sui sogni, desideri, tutto quello che può racchiudere i bambini i sogni dei bambini, quel filo diretto tra realtà e sogni rappresenta un mondo diverso adatto ai bambini per cui c'è un grande bambino che sogna a cavallo di una luna noi siamo il gruppo di Musestre di Roncate, rappresentiamo Venezia la festa del Carnevale Vicentino ha aperto i battenti ieri pomeriggio in Viale Roma con la sfilata dei sette carri allegorici che hanno animato la città insieme alle majorette di Caltrano, centinaia di figuranti, magia, fatine ed esibizioni tanta gente e mi sto divertendo bravissimo Vicenza a fare queste manifestazioni guai se mancano gli alpini bravissimo bravo Vicenza